Il prestigioso quanto insidioso incarico è stato affidato per un lustro Edmondo Bruti Liberati, procuratore capo di Milano dal 2010, da pochi giorni ufficialmente in pensione dopo 45 anni di onorata carriera in magistratura. Ora la casella rimasta vuota in quella che i media per molti mesi ribattezzarono la procura dei veleni, ci sono 10 candidati. Tra loro il Consiglio Superiore della Magistratura sceglierà il successore di Bruti Liberati e fra i papabili magistrati di altissimo livello impegnati in grandi procure, c'è anche Nicola Gratteri, procuratore aggiunto di Reggio Calabria dal 2009 e sottoscorta dal 1989. In prima linea nella lotta all'Andrangheta, autori di veri e propri fenomeni editoriali sul fenomeno insieme allo studioso Antonio Nicaso, il magistrato originario della Locrida e dallo scorso anno ricopre il ruolo di presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta alle mafie. Gratteri dovrà affrontare altri 9 candidati al vertice della procura meneghina, i tre aggiunti Hilda Boccassini, Alberto Nobili e Francesco Greco e poi il capo di gabinetto del ministro della giustizia Giovanni Melillo, Kunotar Fusser, magistrato alla Corte Penale Internazionale, il capo della procura di Trento Giuseppe Amato, il procuratore capo di Novara Francesco Saluzzo, quello della procura di Nuoro Andrea Garau e Massimo Meroni, procuratore aggiunto a Bergamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.